Online è più facile gestire il tuo mondo Vodafone U. Puoi consultare il catalogo ed essere sempre aggiornato sui premi che puoi richiedere. Inoltre li puoi condividere e commentare sui principali social network. Scarica gratis My190 per sfogliare il catalogo anche sul tuo smartphone. Copri subito i premi su catalogo.vodafone.it